2700 metri, penultima difficoltà del Porte Céan 2024, tra la sua Daenna che è portata in testa alla base vita di Olomon sta arrivando a un vantaggio di quasi due ore su Louis Calais che è uscito da poco dalla base vita di Olomon dopo una lunga sosta. Lo intercettiamo e vediamo di capire le sue impressioni alla penultima difficoltà di questa gara. Ciao. François, l'avant-terrì col, 285 km per passare, ora tu sei a la testa della corse, è il buono di passare? Sì, vediamo. Come ti sei? La freschezza del mattino è bene? Non c'è bene, però non, per l'instant è bene. Che significa per te avere la tua famiglia, la tua figlia, la tua figlia che fanno il tipo per il tuo papà? E' stato veramente volontario questa settimana per cambiare tutto questo e per me amici, la mia famiglia e gli altri almeno. E' molto molto di persone, di camera, di tutto questo. Ma per quanto io volevo che l'assistante sia veramente molto vicino. E' molto vicino. E' molto vicino. E' molto bene. E' molto bene. E' molto bene. Grazie. Buon coraggio. Buon coraggio. Aller!